Gli agenti della sezione antiterrorismo della Digos di Salerno hanno dato esecuzione al decreto di espulsione emesso lo scorso 17 settembre dal ministro dell'interno nei confronti di un cittadino pakistano di 38 anni. L'uomo è stato bloccato all'aeroporto di Napoli-Capodichino non appena sbarcato da un volo proveniente da Istanbul. Il 38enne, già residente nel comune di Sarno, munito di regolare permesso di soggiorno, era considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato, poiché è ritenuto capace di agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali. In particolare, l'uomo era sospettato di essere inserito in un network operativo composto da soggetti noti per aver assunto posizioni religiose radicali di fede scita e coinvolti in attività volte allo svolgimento di azioni violente. A ciò va aggiunta la sua avvicinanza ad un'organizzazione dedita allo spionaggio e collegata alle milizie iraniane, volta alla realizzazione di atti terroristici sul territorio italiano. Gli inquirenti, nonostante il 38enne avesse fatto perdere le sue tracce la scorsa estate, sono riusciti ad individuare sia l'abitazione presa in fitto a Sarno che alcuni soggetti con i quali era risultato essere stato in contatto in quel territorio. Un'attività che ha permesso di rintracciare l'uomo e di bloccarlo all'aeroporto di Napoli, dove gli è stato notificato il provvedimento del ministro dell'interno ed il decreto di revoca del permesso di soggiorno. L'uomo, espletate le formalità, è ripartito alla volta di Istanbul.